Merce AFMR Ciao tesoro, bentornata Ti stavo aspettando Sei rimasta abbastanza soddisfatta l'ultimo volito Rivederti qui mi fa pensare questo Allora, qual'è l'occasione di oggi? Qual'è l'occasione di oggi? No, andrai ad una festa? Sì sì sì, ci posso pensare io Ci posso pensare tanto make up Però noto che hai già qualcosa sul viso Cos'hai? Ah, avevi messo questa mattina la BB cream Si, hai ancora dei residui, vabbè non ti preoccupare Tanto ho le salventine rifrescanti Ok Ora, adesso ti strucco per bene E poi ti faccio per bene il make up Ok, ok Un attimo prendo le salventine Con queste salventine io adesso Detergo il tuo viso E tolgo i residui I residui di trucco che ti sono rimasti, ok? E poi andiamo ad applicare il make up Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Allora Allora Stai ferma Ok, ok Ok, ok Sono riprescanti, vero? Ok, direi che abbiamo rimosso tutto, allora vorrei iniziare con il siero Quindi mettiamo questo come base alla prima della crema idratante perché è importante mettere il siero prima della crema idratante Non so se lo sai ma dicono che i benefici della crema idratante sono maggiori Se prima sulla pelle viene applicato il siero, io effettivamente non lo faccio sempre Però visto che con te voglio fare le cose fatte per bene, ti metterò prima il siero Un'ottima base da un make up migliore Ok 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 questa sera allora conoscerai anche gente nuova o una festa che oppure una festa dove conosci già tutti ma in realtà in realtà ci sono solo un paio di persone che conosci ok aspetta ok tutte le altre lo riconosci? beh vedi il lato positivo conoscerai gente nuova ah lo so lo so lo so è sempre bello però conoscere gente nuova si sono fresche queste cose vedi vedi ecco mi prendo un altro po' beh no in realtà non è che stiamo abbondando con questo siero sai i classici sieri di solito si applicano poche gocce però in questo caso questo tipo di siero abbondando non dà problemi ecco qua ecco qua ok Buongiorno a tutti le zone del viso bene come vedi è ad asciugatura rapida vedi sulle mie mani si è già asciugato nonostante io ti abbia messo più gocce del dovuto è molto secco quindi non ascia lascia proprio un leggero strato oleoso ma proprio leggero perché non ti opacizza troppo la pelle però ora possiamo già applicare direttamente questa crema siero vegetale di frosh questo invece è il siero di skin lab sì 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 mi trovo bene mi trovo bene non posso dire che non siano prodotti validi anzi sono validissimi ok senti il popolo fantastica vero il profumo è spaziale però questa non la stanno più facendo ne hanno fatto un altro tipo hanno fatto un'altra crema come questa migliorata è viola il pegagenia viola però è migliore ha già questo è buono la versione di nuovo ecco il nuovo modello se lo vogliamo che vale così è migliore ok ti sento proprio rilassata vai bene a non essere troppo ansiosa a non essere troppo ansiosa per questa festa di stasera anche se non conosci tanta gente anzi è sempre un'opportunità in più per fare un'amici inizio nuove conoscenze ecco ecco qui ecco qua stanno metto tiro giù poi anche sul collo ok ok allora adesso ti applicherò questo collettore qui eccolo qua questo della NYX ne mettiamo giusto un po' nelle zone che nelle zone in cui ne hai più di bisogno qui del controllo occhi e anche qui ok poi mi aiuto con la punta della spugnetta mi aiuto con la spugnetta ecco bene passiamo invece poi al fondotinta in questo caso quello della Essence Stay All Day Seggior devo dire che non è non è caro cioè è veramente un prezzo decente e i risultati che dà sono pazzeschi ok cioè bastano veramente poche quantità di prodotto è esistente che una bellezza questo fondotinta è un prezzo è che si può dì D'accordo? D'accordo 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 Ombretto mascara? Ah ok vuoi la sfumatura più scura però non vuoi né matita né liner va bene va bene Ok Allora Ti faccio vedere la mia palette Che è un po' sporca perché ti ho freddo Perché io la uso sempre E con questa mi tocco Quasi ha il freddo che vedi E qua Qui trovi tutti i colori del mondo Ci sono anche Cioè tutti i colori del mondo abbastanza colori per accontentarsi Ci sono anche i blush Mi sbaglio c'è anche un po' di terra E Pazzeschi questi proprio E la O nei last della Make up session Make up session O nei La Spero si pronuncia così Della Make up obsession Guarda Guarda La meraviglia dei colori Che ha questa palette Che ombretti pazzeschi Guarda 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 Quale desideri? Abbiamo detto che non vuoi la matita Non vuoi nemmeno le liner Però vuoi la sfumatura Sull'oscuro sulla coda finale dell'occhio Ok Ok Allora Come ti vestirai? Ah ti vestirai Ok ok si E' scuro l'abito E' scuro l'abito Che è un nero ma Non è troppo forte Sei d'accordo? Ok Ok Poi Questo qui Lo possiamo utilizzare come glass Vedi? Ok Va bene Allora Andiamo A prendere Un po' di Prodotto Lo vado a prendere Un po' di prodotto Ecco Ecco Ci sono le civette qua fuori Allora Iniziamo Dalla Dalla Parpebra Interna Ok Un po' di qua Ok Ok Poi c'è un lipgloss super glam Da farti provare Pazzesco Pazzesco Shine proprio Brillerai Poi vado Ecco Ecco Con l'altro pennello Con l'altro lato del pennello Perché l'altro pennello L'ho dimenticato Ad applicare La zona Più scura E andiamo a sfumare E andiamo a sfumare Sulla Coda Dell'occhio Ok Allora delicatamente Delicatamente Così Così da Avere tipo Una Avere tipo Una linea Sulla polpa Un po' di Un po' di Un filetto Un filetto Un filetto Un filetto Un filetto Così Anche di qua Benissimo ok ok, adesso passiamo al mascara non ti trucchi quasi mai ah, certo sì, l'estate non è che sia così tanto bello perdere troppo tempo infatti io metto solo qui il collettore poi qua ho messo un po' di ciprivolante però giusto per tamponare non so mai ne metto a sudare se inizia a sudare magari non mi fa sembrare lucida ma ho messo il fondotita no, niente, non l'ho fatto è un trucco veloce insomma no, infatti vedi, sulla fronte non ho niente ok 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 su 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 ok ok su su mhm ok su 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 ok 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 bene anche questo step è stato fatto poi volevo mostrarti un acquisto che ho fatto da poco ok che bella che sta facciamo un nuovo acquisto lucid dream lucid dream lucid alabbro duo chrome blue chrome lip gloss bellissimo quando lo metti quando lo indossi non è al peperoncino non è al peperoncino mi pare perché non è eccitato questo ingrediente però ti da quella sensazione di pizzicore si può dire che ti fa ti da una ti da una sensazione di ti volumizza all'istante quasi le labbra top però ti da quel leggero pizzicore pro bassa vedi quindi allora io lo uso pochissimo perché è l'ultimo acquisto che ho fatto ma l'ho preso da un po' perché mi piace metterlo nelle occasioni particolari quindi non è che ci siano tutte queste occasioni particolarissime e non lo voglio sprecare però questa per te è un'occasione speciale quindi a te lo voglio far provare lo puoi applicare anche sopra ad un rossetto eh tipo questo si ora ti faccio vedere che effetto fa su di me te ne applico un altro po' ok ora guarda a me vedi che bello effetto ok vedi che bello effetto su un'altra tonalità di rosette a te da l'effetto nude vedi vedi ecco qua 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 sì infatti non l'ho applicato prima guarda che bello effetto perché non volevo poi accidentalmente sporcarti perché un po' vedi si sporca però vabbè però vedi lo puoi applicare anche già su un altro rossetto sei ancora più chic ok poi poi vado ad applicarti un po' di questa cipria ok 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 senti già il pizzicore sì io lo so sempre però è una cosa piacevole eh mhm così il fondotinta ti dura più a lungo ed infine ed infine ti metto un po' di questo blush anche di qua anche di qua ok facciamo l'effetto facciamo l'effetto guance baciate dal sole ok baciate dal sole ok easy perfetta guardati allo specchio dimmi se ti piace ci siamo ci siamo ci siamo bene sono contentissima beh io spero che tornerai di nuovo fatti truccare visto che questa è già la seconda terza volta che dormite a me sono contentissima ma fatti salutare con un bacio più di un bacio ciao tesoro ci rivediamo alla prossima volta ciao